A scare dell'inno di Nore questa marcha è composta, caia illa, di nacimento, serieno di evoluco ha fatto il suo vita all'inizio e abbiamo molta confianza con lui, perché con la mediazione di lui la banda ha entrato varias volte con la camera di canale su radio e di più di la banda con l'arvaro ceregito e quindi è una specie di domenaggio a lui che decidiamo mettere il nostro repertorio di Semana Santa con una mancha sua e di tutte le cose che ha e che non è perfetto a sua terra e poi mettere il Manta Recorragli che è dedicato a Nazareno e anche a tutti i nostri santi se dice se si il tira bene Carlo è il che sia il che diria a sua mancha io credo che è ben nato essere accaduto e voglio ringraziare a Miguel Angel a questa preciosa banda che abbiamo qui in San Fernando per incluire la mia musica e il suo repertorio e permittanmi che oggi faccio un homenaggio perché credo che non c'è nulla per fare che a qualcuno le regale il suo tempo e il suo conoscimento e benissimo o come noi benissimo a tutti i paesi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.